La pittura? Meravigliosa. La scultura? Anche. Ma tra le tante espressioni dell'arte ne esiste una, talvolta un po' sottovalutata, ma non per questo meno suggestiva, ovvero l'incisione. Una realtà alla quale appartiene anche la xilografia, l'incisione su legno, una tecnica con la quale fin dagli albori nel 400 si sono confrontati alcuni dei più grandi maestri nella storia dell'arte. Ebbene a questa tecnica il Rotary Club Addalodigiano dedica fino al 13 aprile allo spazio BPL Arte il secondo concorso opere di xilografia Città di Lodi, con in lizza e in mostra alcuni dei più grandi interpreti contemporanei italiani e non solo. Allo spazio BPL di Lodi la mostra del secondo concorso nazionale dedicato alla xilografia, quest'anno con 22 partecipanti, espressioni migliori di quest'arte, di questa tecnica provenienti da tutta Italia. Siamo soddisfatti perché una mostra deve avere il suo criterio filologico e qui è una valorizzazione di una tecnica non tanto conosciuta, ma che è la tecnica più antica che si conosca e i rappresentanti sono di grande valore come Schialvino, Verna, Krog, compreso anche qualche espressione lodigiana come il solitario taciturno Maiocchi, oltre che un omaggio fatto a un grande xilografo che è Ogo Maffi. Insieme a questo il concorso ha allargato la partecipazione al liceo artistico Calisto Piazza ed è stata una sorpresa favorevole di vedere 12 partecipanti con qualche bella promessa, con una frase che ho detto alla presentazione, nella speranza che da qualche ghianda sorga qualche pianta. Il riferimento a Ugo Maffi è più che doveroso, perché il compianto artista lodigiano, oltre che grandissimo interprete della tecnica silografica, sia essa a colori o in bianco e nero, è stato anche uno degli ispiratori del concorso Città di Lodi. E per Maffi invece è un doveroso omaggio a un incisore che lungo il suo percorso ha un corpus rilevantissimo di oltre 500 incisioni. La silografia è la parte più sua, più qualificata, con una capacità di incisioni in rilievo a legno perso con qualche sovrapposizione di altre matrici, per la ricchezza del colore che era la componente più importante per Ugo Maffi anche nel campo, nell'altro campo, quello della pittura.